Bentornati qui a Radio Puginion Air. Oggi parleremo del duello TV tra Meloni e Schlein. Lo scontro TV tra Giorgia Meloni ed Ellie Schlein, che secondo la sondaggista Alessandra Ghisleri terrebbe il 56% degli italiani incollati alla TV, prende forma. Lo staff della Premier e quello della segretaria PD hanno iniziato ad annusarsi durante una prima telefonata. Gli Sherpa quindi sono al lavoro per decidere l'emittente. In ballo ci sono Rai 1 con Bruno Vespa, che rivendica di averle invitate per primo, Mediaset, La7 e Sky TG24. In ballo ci sono le elezioni europee e un confronto in diretta televisiva polarizzerà lo scontro tra le due leader donne. Necessità che hanno entrambe le leader di partito. La numero uno del Nazareno, ormai sempre più convinta della sua candidatura e la sfida TV ne è un'ulteriore prova, vuole segnare la distanza da Giuseppe Conte, mentre la Premier vuole fare un ulteriore balzo in avanti all'interno della coalizzazione di centrodestra. Schlein ha già detto che vuole puntare tutto sulla questione sociale. Dopo i tagli alla sanità, le persone hanno smesso di curarsi, ha detto la segretaria Dem, che ha lanciato la sfida alla Premier. Guanto di sfida raccolto subito dalla leader di Fratelli d'Italia durante la conferenza stampa di fine anno. Immediatamente dopo è partita la gara tra le emittenti e ad aggiudicarsi il confronto. I collaboratori più vicini a Meloni e Schlein hanno parlato soprattutto di questo, prendendosi del tempo per decidere. Qui a Radio Pugini On Air è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata di Radio Pugini On Air.